Da una semplice terapia è diventato un amore per uno sport idropratico ancora adesso. E' una cosa bellissima lo sport e soprattutto lo sport paralimpico perché siamo tanti ragazzi. Certo abbiamo tante disabilità però il bello è che noi siamo sempre col sorriso. La buona notizia è che sono sopravvissuta a quella mia diagnosi che tutti i medici dicevano non farà niente, non camminerà, non parlerà, non farà niente, solo starà sul letto sdraiata e basta, non farà niente. Invece con l'amore dei miei genitori sono riuscita qua, sono qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.